L'arte cronica degli ultimi tre anni. Storniamo a parlare di un colpo di Stato. Tu questo libro qua l'hai scritto... Sì, aprile. L'hai già messa in ero su bianco prima della lettera di Geithner, cioè dell'ex ministro del Tesoro americano. Cos'è? Qual è il colpo di Stato? Ma diciamola così, in Italia abbiamo avuto negli anni 70 le stragi di Stato. Adesso per fortuna di stragi di Stato non abbiamo più bisogno e lo facciamo in maniera soft a partire dal 2011 con i colpi di Stato al posto delle stragi di Stato. Io ho cercato in questo volumetto, in questo panflet, di ricostruire la vicenda a partire da quello che ormai è diventato un argomento ben noto e conosciuto, l'estate del 2011 e le dimissioni poi nell'autunno, nel novembre di Berlusconi, dimissioni forzate, sono arrivato fino all'ultimo, fino al, diciamo così, al governo Renzi. E ho detto che secondo me questo è un processo che è cominciato allora e che sta ancora continuando. Ecco perché ho parlato di colpo di Stato permanente. Perché? Perché si sta cercando di cambiare proprio le istituzioni democratiche del nostro paese. Il nostro paese vive in un sistema costituzionale che è di un governo parlamentare e a partire dal punto il colpo di Stato di Mario Monti stiamo andando verso una forma di governo diverso da quello che era previsto dalla nostra Costituzione. Perché tu, dentro questo libro, il colpo di Stato assegni una responsabilità politica forte a Napolitano. Sì, io voglio riconoscere il rispetto che si deve alla carica istituzionale e alla persona per l'età che ha. Quindi non c'è, nelle mie parole, nessun atteggiamento di disprezzo nei confronti del Presidente della Repubblica, ma il ruolo che lui ha giocato, il ruolo politico che lui ha giocato è quello veramente di regista di un'impresa che mira alla distruzione della nostra Costituzione. Lui che dovrebbe essere il garante. E' per questa ragione che io ritengo che la messa in Stato d'accusa era doverosa, non è stata presa sul serio, ma la messa in Stato d'accusa è doverosa. E comunque resta agli atti. Resta agli atti. Noi dobbiamo tenere presente una cosa. Questo è l'inizio del colpo di Stato, avviene per l'appunto con le dimissioni forzate di Berlusconi, ma poi continua fino ad oggi, e come? Con dei passaggi che sono incredibili. Per la prima volta un Presidente della Repubblica viene rieletto, un'altra volta perché? Perché c'è un disegno politico da realizzare, e il disegno politico da realizzare è quello delle larghe intese per eliminare il pericolo che era scaturito dalle elezioni di febbraio. Questo è il dato di fatto. Ecco perché non ha senso parlare di colpetti di Stato, ma di un colpo di Stato permanente. Perché ci siamo entrati dentro allora e non ci siamo ancora usciti da questa situazione. Paolo, rimani con noi perché più avanti ti chiederò... Grazie.